Ciao ragazzi, benvenuti sul canale, bentornati ad una nuova avventura. Oggi sono vicino a casa, precisamente nel comune di San Pietro Mussolino, in provincia di Vicenza, Veneto, e sto percorrendo il sentiero della Peregina. Un itinerario dedicato a questo animaletto così piccolo ma così prezioso per la nostra vita. Ecco qui, adesso prendiamo via l'ore. Andiamo. Si scorge cima marana, le piccole velumiti, la catena delle tre croci. Il sentiero delle api è dedicato appunto a questo piccolo insetto di grandissima importanza per il nostro ciclo vitale e il comune di San Pietro Mussolino è impegnato nella tutela delle api ma anche del territorio stesso. Per mancanza di tempo, se farò il giro più corto. Quindi ci nutriamo in mezzo ai boschi. In questo punto, mi avvasso, così si vedono i cartelli, si incrociano i due sentieri. Il sentiero arancione è quello più corto, sono circa 7 km per 450 metri di dislivello, mentre il sentiero azzurro è quello più lungo, circa 13 km, 13 km e mezzo per 650 metri di dislivello. percorrere ci vorranno tre ore e mezza, più o meno. Se hai bisogno di rilassarti, di riconnettati con la natura, questo è proprio il posto giusto. Si apre un po' di visuale, finalmente, e quella contratti di qui in fondo è Contra Massanghela, dove adesso passeremo. In realtà, ho deciso di prolungare un po' il giro, strada facendo, e quindi di seguire anche un pezzettino del sentiero azzurro. Eccoci qui, siamo a Contra Massanghela con la fontana. Praticamente qualcuno pensava che io mi perdessi in quel di San Pietro Mussolino, questo tipo è il mio nickname in Instagram. Dopo qualche minuto in piano si scende. Una cosa che non vi ho ancora detto è che solitamente in primi di luglio, comunque in estate, viene organizzata dal comune di San Pietro Mussolino una camminata lungo questo sentiero, ma con delle tappe. Sono delle tappe gastronomiche, nel senso che si possono assaggiare, degustare i vari tipi di miele prodotti dagli apicultori della zona. E siamo arrivati all'ape regina, l'ape vaia, costruito dallo scultore molto famoso Marco Martelar e con i denti delle piante abbattute dalla tempesta vaia. Una volta aver visto l'ape vaia, si torna indietro della ciclabile. Ultima, ma non meno importante, l'ape vaia è stata venuta proprio qui a San Pietro Mussolino perché è il comune amico delle api. Io ragazzi vi lascio, vi ringrazio di avermi seguita in questo bellissimo giro. Magari vi farò sapere quando ci sarà la camminata con i punti di ristoro perché secondo me deve essere un giro molto molto bello e anche squisito.